La donna grassa che parlava ansiosamente al farmacista del Center Street Drugstore non si volse quando la campanella sopra l'uscio sparse il suo trillo argentino sopra gli scaffali, né quando la nuova cliente, annunciata da un lieve picchiettio di tacchi, si avviò verso il bancone. Al contrario, il bambino basso e magrolino che stava al fianco della signora grassa si girò a guardare. Come i suoi occhi si posarono sulla figura snella di Sheryl la Monica, l'espressione di afflitto e imbarazzo che aveva affrescata sul volto smunto e pallido si schiarì in uno sbigottimento così comico che la ragazza quasi rise. Ne sarebbe stata intenerita, non fosse stato per il fatto che era abituata a provocare simili reazioni nei maschi sin da quando aveva dodici anni, indipendentemente dall'età di questi ultimi. Anche l'uomo in camice candido dietro il bancone e il signor Kean si accorse della sua presenza e i suoi occhi si distolsero dal faccione della signora corpulenta. Quest'ultima, percependo che la sua ringa ansiogena non era più al centro dell'attenzione del commesso, si volse di scatto e finalmente vide Sheryl. Per qualche attimo nessuno fiatò e l'unico che seguitò a parlare fu Elvis Presley, che cantava languidamente dalla radio un suo successo di uno o due anni prima. Ciao ragazzi, questo è l'incipit della storia Una cattiva ragazza scritta da Zelkor che verrà pubblicata domani pomeriggio alle 17.30 in premiere sul canale Zelkor Storie Horror e del mistero. Il racconto sarà narrato da me e le voci dei personaggi saranno interpretati da Vir e la musifabolista, da Pilgrim Cantastorie e da Ex della Locanda della Tormenta. Le musiche come al solito sono composte da Zero, Copyright Free Music. Ci vediamo domani pomeriggio alle 17.30, mi raccomando, sentiamoci nella chat dal vivo. Intanto, se non avete voglia di aspettare fino a domani sera, io questa notte a mezzanotte e mezza, mezz'ora più, mezz'ora meno, oramai chi mi segue lo sa che non arrivo quasi mai puntuale, e andrò avanti con la lettura di Viaggio in Occidente di Woo Chang'an. Quindi vi aspetto sia stanotte che domani pomeriggio. Ciao dalla vostra Rosanna!